Ma oltre al pianista abbiamo anche un'orchestra che torna a distanza di anni, è stata qui con noi nel 1998 e nel 1999 e torna per offrirci delle cose musicalmente che hanno a che vedere tanto con questo spettacolo fatto proprio di Sicilia. Signore e signori, gli Antetna ci regalano una prima canzone che è dedicata proprio alla Cireale che si intitola Tarsuri e Mare. Gli Antetna. 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 Gli Antetna.